La votazione è chiusa. La Camera approva. Relatrice, prego. Articolo 4. 4.51 Quintarelli. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.53 Centemero. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.200 Le votazioni. Favorevole. 4.12 Nitti. Scusi, 4.12. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.50. Favorevole. 4.14. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.54. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.55. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.56. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.57. Favorevole. 4.21. Invitolo a ritiro parere contrario. 4.58. È identico. 59. Parere favorevole. 4.60 invito a ritiro, parere contrario 4.28 invito a ritiro, parere contrario ci sono gli aggiuntivi 4 bis, punto 50 ah ok, quindi andiamo ah, questo è il 4 bis, ok è il relatore di minoranza 4.51 ci rimettiamo all'aula 4.53 centemero ci rimettiamo all'aula 4.12 favorevole 4.50 ha saltato il 4.200